La prima volta che ho sentito la parola design in Italia è stato da Munari. Quattro quinti di questi miei, di queste cose che mi sono rimasti dentro da sempre e che poi sono transitate presso da Ulm, eccetera, eccetera. Vengono da lui. Lui era uno che, in cui la dimensione ludica faceva, era una delle cose da sviluppare. Non so come dire, era una caratteristica per far funzionare bene un libro per bambini. Devi essere ludico, non so come dire. Munari era uno che dei bambini si occupava, ma come? Come andava verso i bambini? Andava verso i bambini pensando che loro erano le autorità. E lui parlava con loro, ma lui è l'uomo più lontano da Disney che ci si possa immaginare. Proprio esattamente il contrario. Ed era un uomo molto tutt'altro che mellifluo, niente di tutto questo. Lui era un uomo molto tosto, molto tosto e niente bambinesco, proprio neanche un po'. Era vicino ai bambini proprio perché ripercorreva l'approccio che hanno i bambini, la straordinaria serietà che hanno i bambini.